Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora, tanto per cambiare, ben ritrovati qua, nel classico, solito, usuale, disordine della mia libreria. Allora, 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 ho parlato delle castronerie e dell'impreparazione italiana alla guerra, ho parlato del disastro italiano della logistica, ho parlato delle catastrofiche Wunderwaffen tedesche, ho parlato male di questo, di quello e di quell'altro e adesso cominciamo, finiamo il giro dell'oca, tra virgolette, dell'asse andando a parlare male dei nostri cari alleati nipponici. Sì, perché, siamo sinceri, se durante la seconda guerra mondiale c'è stato qualcuno che aveva una logistica più incasinata e disastrosa di quella italiana, quella era proprio la logistica dei nostri alleati dell'impero del sollevante. Vi ho parlato spesso di un libro che si intitola Armi leggere della seconda guerra mondiale, scritte dall'esperto britannico John Wicks, che è un libro godibile, come quasi tutti quelli scritti dagli storici e dagli esperti inglesi, che sono, come dire, indubbiamente i migliori e i più obiettivi che se ne dica. Possono non stare simpatici, ma quando si parla di seconda guerra mondiale è poco da dire e poco da fare. La storiografia di riferimento per serietà, completezza, obiettività, equidistanza ed equilibrio rimane sempre e solo quella inglese. Che vi piaccia o meno la realtà dei fatti è questa. Stop! Chiaro? Dicevo, John Wicks ci parla della catastrofica situazione logistica del rifornimento, cioè della mancanza di standardizzazione delle armi, delle munizioni giapponesi, delle munizioni per l'esercito giapponese e per la marina. Allora, sentite un po' che roba. Allora, un altro aspetto, ci dice Wicks, delle armi leggere giapponesi difficilissimo da chiarire senza un attento studio è quello delle munizioni. I tipi ed i sottotipi di esse costituiscono sempre una trappola per gli inesperti e sarà bene descrivere a grandi linee i gruppi principali, cosicché il lettore possa riferirsi a queste definizioni preliminari nel corso della lettura del capitolo dedicato alle armi giapponesi. Ripeto, si parla di questo libro intitolato Armi leggere della seconda guerra mondiale. Allora, innanzitutto la munizione da pistola è la Nambu calibro 8 mm che non cambiò mai. Poi vi era la cartuccia Arisaka calibro 6,5 mm con risalto che datava dal 1905 e che era nota come tipo 38. Purtroppo questa cartuccia era troppo potente per le mitragliatrici leggere in dotazione alle forze armate nipponiche. Così venne creata un'altra cartuccia tipo 38 o 1905, sempre da 6,5 mm ma a potenza ridotta e i due tipi si potevano distinguere l'uno dall'altro soltanto osservandone l'impacchettatura. Signore Dio del cielo, cioè ci vogliamo rendere conto? Ci vogliamo rendere conto? Vabbè, continuiamo. Nel corso della campagna in Manciuria del 1931 queste munizioni erano al di sotto degli standard moderni e ad uso della versione del modello 92 della mitragliatrice Media Otschkis, un progetto francese costruito in Giappone su licenza, si introdusse una cartuccia da 7,7 mm. Anche questa aveva il bossolo con risalto ma nel 1939 se ne fabbricò anche una versione senza il risalto del bossolo che si adattava ai fucili e alle mitragliatrici tipo 99, un altro modello. Infine vi era la cartuccia con risalto da 7,7 mm, che altro non era se non la cartuccia originale inglese calibro 0,303 pollici, copiata senza a portarvi alcun cambiamento. Cioè rendiamoci conto, rendiamoci semplicemente conto dell'incubo che era la logistica giapponese. Due diversi tipi di cartuccia praticamente uguali, cioè due cartucce uguali, due tipi di munizionamento uguali, uno a carica ridotta per le mitragliatrici, uno a carica piena per i fucili, distinguibili soltanto dal colore del pacchetto. Se vi sembra un sistema sicuro per combinare casini non vi preoccupate, è un sistema certo per combinare casini e disastri. Per non parlare poi della munizione 7,7 giapponese con il risalto del bossolo. E di quella senza risalto del bossolo è poi la 303 british copiata dai giapponesi. Io non oso pensare a quei poveri disgraziati degli ufficiali dell'intendenza giapponese che dovevano mettere, insomma che dovevano rifornire i reparti oltremare con questa varietà quantomeno disgraziata di munizioni. Cioè pensateci bene, quanto può essere facile fare la cappella, fare la cazzata, sbagliare in buona fede e spedire come munizione per mitragliatrice la munizione per fucile a risaca 6,5 mm a carica piena? Cosa poteva succedere? O peggio ancora, sbagliare, inviare la 7,7 giapponese con risalto al posto della 303 british? Cioè sono cose che possono succedere, che capitano, che succedono. Noi italiani ne sappiamo qualcosa perché avevamo oggettivamente qualcosa come 10 o 12, 8, scusate, 8 calibri diversi di munizioni per armi leggere. E se possibile i giapponesi erano messi peggio di noi. Cioè i soldati del sollevante, i marinai del sollevante, fecero quello che fecero, conquistarono mezza Asia, grazie soprattutto alla loro abnegazione, grazie soprattutto al fatto che erano autentici insetti da guerra. Ma in realtà l'esercito giapponese, non propriamente ben armato, non propriamente ben equipaggiato, fece quello che fece, ebbe i successi che ebbe solo, soltanto e solamente perché ebbe a scontrarsi con forze numericamente inferiori e male equipaggiate come le forze coloniali inglesi e olandesi. Quando si trattò di fare sul serio i nodi vennero al pettine. Va bene, la guerra fu estremamente difficile per gli alleati sul fronte del Pacifico, sul fronte asiatico. Ma, ripeto, l'esercito giapponese e le forze armate giapponesi avevano enormi problemi di logistica, che spesso e volentieri causarono enormi problemi alle truppe di prima linea. Ma questo sicuramente non sono soltanto io a dirlo, perché il sottoscritto è soltanto uno squinternato e fanatico autodidatta con la terza media. Niente di più. Che vi posso dire, signori? Il disastro della logistica giapponese. Pensateci bene. Cioè, rendetevi conto. Stesso calibro, stessa dimensione, cioè stessa cartuccia, stessa munizione, con una carica di polvere da sparo piena per il fucile, ridotta per la mitragliatrice. Se si fa confusione. Se spari con una munizione a carica di propellente ridotta col fucile, semiautomatico, tipo Mauser, insomma, no semiautomatico, bolt action, a otturatore girevole e scorrevole, semiautomatico, cioè, insomma, poco male. Ma che cosa può succedere se fai confusione e spari con una mitragliatrice non in grado di reggere la carica piena, rischi di ritrovarti veramente metà della faccia proiettata su Saturno e l'altra metà su Urano. Insomma, dopo va bene, i giapponesi erano abituati a combattere senza farsi troppe domande, a combattere per l'onore e per la gloria dell'impero e dell'imperatore. Ma questo è decisamente un altro discorso. Il fatto è semplicemente però che veramente la logistica giapponese era messa decisamente peggio rispetto alla logistica italiana, anche perché dovevano muoversi su un fronte immensamente più vasto, con tutti i casini che ne conseguono. Quindi vi lascio immaginare che cazzo di disastri poterano capitare ai poveri soldati giapponesi. Detta come. Quindi, cari signori, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e tanto per cambiare arrivederci al mio prossimo video. Buonasera signori.